Torna ad esprimersi il comitato 4.0 e lo fa alla luce delle recenti disposizioni che hanno ancora una volta colpito lo sport. Formato da cinque figure dirigenziali importanti, il presidente di Lega Pro Calcistica Ghirelli, Gandini e Basciano del basket, Righi e Fabris della pallavolo femminile, il comitato, dalla pandemia in poi, ha sempre preso posizione per tutelare gli interessi degli sport italiani. Capienza ridotte e problemi mai risolti. La scure dei decreti cade sempre puntuale sullo sport, a differenza di quello che accade in altri paesi. La restrizione degli accessi ai palazzetti e agli stadi, si legge, ha un riflesso negativo evidentissimo. I club che da due anni vivono una condizione di difficoltà finanziaria per gli effetti negativi causati dalla pandemia rischiano il tracollo, perché da un lato vedranno ridursi gli incassi da botteghino e dall'altro vedranno aumentare le spese per le misure di salvaguardia della salute. Il punto dolente, ormai da due anni a questa parte, è sempre il solito, il credito d'imposta. Il comitato evidenzia l'assurdità del mancato rifinanziamento della misura del credito d'imposta sulle sponsorizzazioni. Il governo avrebbe dovuto capire l'inderogabilità del rifinanziamento. Vi è da fare a questo punto una riflessione su questi due anni che abbiamo alle spalle. Agli stessi club non solo non sono stati riconosciuti i giusti ristori, ma gli stessi sono stati penalizzati rispetto ad analoghe attività produttive che, durante la pandemia, hanno chiuso le loro attività. I club sportivi hanno pagato due volte. Ora basta, siamo irritati ed arrabbiati. Abbiamo necessità, ora e non domani, del rifinanziamento. La misura sulle capienze rende l'intervento urgentissimo. Lo diciamo senza remore perché il tracollo è vicino. Il comitato ribadisce comunque che la scelta della salvaguardia della salute è il bene fondamentale del paese. Da qui la conseguenza logica e coerente di andare verso l'obbligatorietà delle vaccinazioni per gli atleti. Il sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, ha fatto poi in modo recentemente che i rappresentanti dello sport possano sedersi al prossimo tavolo Stato-Regioni. Un piccolo traguardo in attesa di buone nuove.